Vi siete mai chiesti cosa si nasconde dietro le quinte delle società di Chiara Ferragni? Oggi vi sveleremo dettagli sorprendenti. Fabio Maria D'Amato, l'ex manager di punta del gruppo Ferragni, ha deciso di lasciare il suo ruolo, e le sue rivelazioni sono scioccanti. Cosa ha spinto questo fidato collaboratore ad abbandonare il gruppo? E cosa ha da dire sul suo passato al fianco di Chiara Ferragni? Restate con noi fino alla fine per scoprire tutti i dettagli. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale, mettere un like e lasciare i vostri commenti. Fabio Maria D'Amato, ex braccio destro di Chiara Ferragni, ha lasciato la gestione delle società qualche settimana fa. La notizia è stata comunicata ufficialmente da Fenice e TBS Criu, sottolineando che il cambiamento fa parte di un percorso di rinnovamento aziendale. Dal 16 giugno 2024, D'Amato non ricoprirà più la carica di direttore generale e ne sarà consigliere di amministrazione delle aziende. La rivelazione è arrivata in diretta su RTL 102.5, dove Gabriele Parpiglia ha letto una lettera inviata dagli avvocati di D'Amato. La lettera mirava a chiarire diverse voci circolate recentemente. D'Amato ha voluto precisare che non ha mai chiesto né percepito 4 milioni di euro da Fenice. Inoltre, ha rassegnato le dimissioni volontarie da TBS Criu già a febbraio 2024, e non ha avuto alcun coinvolgimento nelle email menzionate nel provvedimento Agicom rivolto a TBS Criu, Fenice e Balocco Spa. Alla luce di queste rivelazioni, cosa pensate della decisione di Fabio Maria D'Amato di lasciare il gruppo Ferragni? Credete che ci siano ulteriori dettagli nascosti? Fateci sapere nei commenti! Non dimenticate di mettere un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i nostri prossimi video!